Il dramma, nel dramma, quello di Omar Torri, attaccante dell'Albino Leffe e fratello di Yuri, deceduto nell'incidente stradale all'Overe questa mattina. Per Omar uno strazio che si va ad aggiungere a quello di aver perso 15 anni fa, entrambi i genitori ancora in un incidente stradale. Un dolore enorme che ha visto dirigenti, staff tecnico e compagni di squadra stringersi immediatamente attorno a lui, quasi a proteggerlo di fronte alle crudezze della vita. Portavoce di questo cordoglio commosso, il Presidente dell'Albino Leffe, Gianfranco Andreoletti. Siamo molto vicini e molto rischiazioni. È un ragazzo a cui sono già mancati i genitori, siamo per un incidente, quindi possiamo farlo di esprimere il cordoglio e siamo vicini. È difficile trovare le parole. Ecco Presidente, giocherete con il lutto al braccio, immagino, domenica contro il Modo. La richiesta però sicuramente al di là di questo aspetto formale, potrei esprimere anche a nome dei compagni la partecipazione, la vicinanza. La ragazza in questo momento immaginiamo molto difficile, molto triste per lui.